A proposito di imprese, il Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni è intervenuto all'Assemblea di Farmindustria, parliamo di aziende del farmaco, l'evento è avvenuto a Monza, vediamo l'intervista. Tutte le idee sono benvenute, noi stiamo come Regione attivamente investendo risorse ingenti sulla ricerca, sull'innovazione tecnologica per salvaguardare principalmente un settore come questo che vede la Lombardia essere la prima Regione in Italia per la presenza di società, di enti di ricerca e di occupazione, quindi l'impegno nostro è questo, l'attrattività agli investimenti esteri della Lombardia viene data da questo, viene data dalla capacità di investire in ricerca e sviluppo ed è quello che questo settore rappresenta più di chiunque altro.